Facciamo Acoustic Trio, però dopo 19 anni di roba acustica, dopo la facciamo perché suoniamo sempre l'acustico, la batteria è acustica, dopo 19 anni abbiamo detto ma perché non fare qualcosa anche di un po' diverso e quindi questa è la nostra versione di Shine on Crazy Diamond che andrebbe suonata con tastiere eccetera, noi l'abbiamo fatta in versione Blues Trio tipo Jimi Hendrix Experience oppure Stevie Ray Vaughan e infatti, giusto appunto, proprio parlando di Stevie Ray Vaughan, mi facciamo ascoltare un brano che a noi piace molto che fa così, così, proprio così. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.